Lo sapevamo qual è il nostro potenziale, quanti gelsi abbiamo, quanto spazio abbiamo per metterli affidare, portiamo a casa 10 gionti, va bene, ma poi è come mettere 3 kg di riso in una pentola, ti scappa fuori dappertutto, imbratti dappertutto e non fai niente e qui è uguale, sapevamo due 11, due 11 e madri saffia, madri saffia due 11, sennò vuole un peso di cappanone che non c'era e poi ci vuole braccia e foglie e gelsi, perché nel mese di maggio l'era da solcitar la viava, l'era da far la prima segada per mandare che mi era eva che far fien, un mister l'era da solcitar e dopo l'era da sapare la viava e nel frattempo intanto che si riposava, in maniera il cavaliere, era terribile il mese di maggio, sì, terribile e avanti con una fede, avanti con la speranza, guardare avanti, a guardare e guardarmi dietro mi fa un po' freddito. Grazie a tutti.